Guarda arrivano i lupi sulla campagna addormentata, hanno fame e sono in tanti. Sono i versi iniziali della canzone I lupi del compianto cantautore di Nova Feltria Ivan Graziani, ma si possono tranquillamente utilizzare per raccontare la vicenda del signor Serallegri, un serafico pensionato che abita in campagna, accoglie al metauro nella frazione di Calcinelli, a 100 metri dalla Flaminia, e che l'altra notte ha avuto, alle prime luci dell'alba, un incontro ravvicinato con un branco di lupi, che gli avevano appena sbranato quattro pecore, nel recinto a pochi passi dall'uscio di casa. È successo che ho sentito il rumore di notte, ma non mi sono alzato subito, perché c'è perico magari, e quando mi sono alzato la mattina a 5 e mezzo ho visto tutto quello che c'era morto qui, proprio a fianco alla casa. Però i segni sono stati... Sì, 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 l'ha detto anche il veterinario, l'ha detto che sono i segni del lupo, via. Poi si vede tutto qui, è preso proprio... Dopo li abbiamo visti anche, erano tre, li abbiamo visti lì lungo la rete, c'era anche un amico mio. Sono delle belle bestie, non vorrei che adesso fassi delle persone, ho pure i bambini, non so. Serallegri teneva le povere bestie per puro diletto, come anche altri animali da cortile di sua proprietà. Non erano una fonte di sostentamento, come in altri casi, ma qui, a sentire i residenti, certe incursioni sono all'ordine del giorno e allarmano non poco. E anche lei, c'è gli animali, anche lei ha tracce di visita? Sì, 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 tutte le notti ho la volpe, se esce un pollo dal recinto non fa più rientro, perché anche di giorno poi si vede che aspettano lì fuori il momento giusto, opportuno per... e lo stesso il lupo, nonostante che siamo in pianura vicino al fiume, anche da noi c'è... e poi una guardia provinciale l'ha visto proprio lì di là dal fiume da noi, l'ha visto lui di giorno, perciò è un problema grossissimo.